Musica A tutti buonasera dal TG Prato, viadotto del soccorso, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, apre l'istruttoria, dunque accoglie l'esposto presentato dal gruppo consigliare del PD. Questa è una questione complessa che è relativa alla procedura che il comune di Prato ha seguito per dare il via alla realizzazione del progetto. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha aperto l'istruttoria sul progetto del viadotto di via Marx e ha dunque accolto i rilievi contenuti nell'esposto inviato a fine ottobre dal gruppo consigliare del PD, che ora canta vittoria, perché intanto il comune di Prato è stato chiamato a presentare entro 20 giorni le sue contradduzioni su una serie di punti indicati dall'autorità. Nodo principale della questione, lo stralcio praticato dal comune sul progetto nella parte che riguarda la realizzazione delle rampe di accesso al viadotto. La delibera di giunta, che ovviamente approva il progetto esecutivo e il progetto definitivo, divide in due gli importi, passando quelle che sono le norme di legge che prevedono espressamente che debba essere un unico progetto e un'unica opera da mettere in appalto. Questo per accelerare i tempi forse, oppure anche per creare le condizioni perché una volta scelto di fare le rampe poi non sarebbe stato più possibile tornare indietro. Comunque sia, il tutto rimaneva nell'ambito del comune di Prato. Un progetto di 24 milioni di euro non può rimanere così. E la cosa ancora più grave, anticipando i termini rispetto a quello che sarebbe stato poi il finanziamento da parte del governo, che ancora non c'è stato. Perché nonostante l'onorevole Mazzoni, il senatore Mazzoni, dica che c'è stato un finanziamento, in realtà ancora non c'è una delibera di finanziamento dell'opera. C'è un monte di soldi che sono destinati a opere pubbliche, ma non c'è, nello specifico, il finanziamento del Prato. Riteniamo che l'istruttoria e l'autorità di vicinanza messo in essere servirà a chiarire ulteriormente questo aspetto. Tempi dell'istruttoria 90 giorni, il conto alla rovescia è già cominciato. Ci pare importante che a questo punto l'autorità di vicinanza abbia chiesto questo fatto, questi dati, e soprattutto vada a controllare l'operato. Se poi risulterà tutto corretto, tutto perfetto, per noi siamo contenti, anche se non siamo d'accordo sull'opera. Per noi però, il fatto stesso che l'autorità di vicinanza abbia dato corso all'istruttoria, significa che qualcosa non va. Il PD ha sempre contestato il viadotto come soluzione ai problemi di congestione del traffico della declassata nel tratto che attraversa il soccorso. Di fatto questa opera è un'opera che dà il nostro per la città. E ora la cronaca. Una bisca clandestina è stata scoperta nella tarda serata di ieri in via 9 agosto dai carabinieri, che hanno sorpreso 17 persone, tutte cinesi, intenti a giocare intorno ai tavoli verdi. La bisca era stata allestita nel semi-interrato di un capannone. Sui sette tavoli da gioco c'erano carte e dadi. I 17 giocatori sono stati tutti identificati, denunciati per partecipazione a gioco d'azzardo. È stato anche rintracciato il titolare dell'immobile, anche questo cinese, che è stato a sua volta denunciato per aver favorito l'esercizio di gioco d'azzardo. Tre pratesi sono stati aggrediti a colpi di bastone e di bottiglia questa notte in via Genova. Uno di loro è stato poi portato al pronto soccorso, medicato con otto giorni di prognosi. Ad aggredirli sono stati due magrebini, poco più che ventenni, entrambi clandestini. I due sono stati arrestati dai carabinieri, che li hanno rintracciati poco lontano dal luogo dell'aggressione, a quanto pare originata da una lite per futili motivi. La diocesi di Prato affida a Angel Hotels la gestione dei suoi due alberghi in Trentino Alto Adige, valore dell'accordo 140 mila euro l'anno. E si tratta di una cifra che è inferiore di 30 mila euro ai soldi che servono per coprire le spese del mutuo, acceso tre anni fa per rimettere a nuovo le due strutture. Sarà il gruppo Angel Hotel, specializzato nel settore alberghiero e nel turismo religioso, a gestire i due alberghi di Carbonin, in Trentino Alto Adige, a metà strada tra Dobbiaco e Cortina, Croda Rossa e Santa Caterina, di proprietà dell'Istituto per l'Educazione Religiosa e l'Assistenza Morale della Gioventù, che fa capo alla diocesi di Prato. Il contratto d'affitto d'azienda è stato firmato nei giorni scorsi e prevede il pagamento di un canone di 140 mila euro l'anno per nove anni, con possibilità di rinnovo per altri nove. Una scelta dettata dalla necessità di mettere a rendita le due strutture, fino a ora aperte solo un paio di mesi in estate, gestite in proprio dalla diocesi. Ristrutturati tre anni fa, a costo dell'intervento 3 milioni di euro, i due alberghi pesano sulle casse della diocesi per 170 mila euro l'anno, vale a dire l'ammontare del mutuo trentennale acceso per rimetterli in sesto. Mantenere un patrimonio immobiliare importante, costruito in 50 anni di storia della diocesi e dei pratesi, quindi di non dismetterlo ma di valorizzarlo, aprendo anche a una gestione invernale, consentire davvero ai pratesi proprio di utilizzare questa struttura così bella per le loro vacanze. Anche pochissimo, ma tenuto conto della crisi di oggi, garantire dei prezzi veramente bassi. Anche l'hotel, che conta una decina di alberghi tra la Toscana e le Marche, diversi di proprietà di diocesi e enti religiosi, si assume anche l'onere della manutenzione straordinaria, sollevando così la diocesi di Prato da un ulteriore peso. Questo per noi, vista anche la distanza, è un'ottima notizia. L'obiettivo è quello di portare sul mercato i due alberghi, 150 posti letto, almeno nove mesi l'anno e dare lavoro a una quindicina di persone. Già dal mese di febbraio potremmo essere in grado già di ospitare i primi gruppi, mantenendo anche un livello di prezzi, di tariffe, di servizi adeguati un po' a tutte le tasche. Il coordinatore toscano di Forza Italia, Massimo Parisi, punta sulla ricandidatura di Cenni. Un centro-destra serio deve dare, dice a Cenni, sicurezza sulla coesione della coalizione e tranquillità di governo nella prossima legislatura. L'intervista del direttore Magrini. Il sindaco Roberto Cenni a Prato non ha ancora sciolto i nodi rispetto all'ipotesi di ricandidatura o meno. Perché e qual è il vostro parere? Io credo che il sindaco Cenni voglia due cose. Voglia un centro-destra quanto più possibile coeso, unito intorno al suo nome, intorno alla sua candidatura e mi sembra una richiesta legittima e vuole anche essere messo in tranquillità dal punto di vista delle condizioni per il dopo. Cioè una volta eletto, perché Cenni se lo ricandidiamo vincerà le elezioni a Prato, vuole essere messo in condizioni di governare dalle forze che lo sostengono. Mi sembrano due richieste assolutamente legittime su cui un centro-destra serio deve dare delle risposte. Cambiamo soltanto partito perché rimaniamo a parlare di politica. Il segretario regionale del PD oggi a Prato per un convegno sulle priorità del distretto a partire dal risparmio energetico e dal potenziamento delle infrastrutture. Claudio Vannacci. Il segretario del PD toscano Ivan Ferrucci era oggi a Prato per discutere delle esperienze di cooperazione nei mercati in trasformazione e di green economy in vista della conferenza programmatica del Partito Democratico regionale. L'iniziativa si è svolta alla cooperativa Cellini ed è stata aperta dal presidente Stefano Ciacci all'incontro hanno preso parte anche l'onorevole Matteo Biffoni, il consigliere regionale Fabrizio Mattei e il segretario provinciale del PD Gabriele Bosi. Stiamo facendo una serie di incontri su territorio con le valli realtà economiche, una di queste. Pensiamo che il ruolo che ha la cooperazione in Toscana sia un ruolo importante dello sviluppo economico e soprattutto anche della possibilità di uscita della crisi della nostra regione e del nostro paese e oggi è un'occasione di confronto su una serie di temi che si sta discutendo a livello regionale anche attraverso la finanziaria regionale. L'appuntamento che noi pensiamo sia un appuntamento importante e su questo ascoltiamo anche le varie opinioni dei soggetti cooperatori impegnati su questo. Al centro del convegno le priorità imprescindibili per assicurare ai distretti come quello pratese un salto di qualità, attuare delle linee che favoriscano concretamente il risparmio energetico, evitare che i costi indiretti impediscano la competitività necessaria alle aziende e potenziare le infrastrutture per fare in modo che l'interporto pratese possa essere collegato con facilità agli sbucchi portuali e aereo portuali toscani. L'economia che fa perno sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile è una dell'occasione per parlare partendo dall'economia sostenibile dell'occasione per dare lavoro soprattutto ai giovani che è un po' la piaga che sta vivendo oggi anche la nostra città. E sono già in corso i lavori di ripristino del dissesto che si è verificato sul Bisenzio a Santa Lucia dove è crollata parte dell'argine all'altezza del cavalciotto. C'era bisogno di un intervento urgente, la provincia ha attivato la ditta Sallei a cui i lavori sono stati consegnati ieri. In poche ore è stata praticamente completata la pista di accesso dalla strada 325 mentre Publiacqua ha proceduto a mettere in sicurezza il tubo idrico scoperto dallo smottamento. Intanto sono arrivate nuove segnalazioni di dissesti, tre riguardano l'ombrone dovuti al rapido ritiro delle acque con franamenti di sponda dal lato del fiume. Sono già stati posizionati i teli di protezione in attesa di capire come intervenire. La provincia ha rilevato anche un sifonamento sul Bardena già segnalato al consorzio Ombrone. Chiude uno dei supermercati PAM di Prato. In 15 sono le persone licenziate. Domani la raccolta di firme del candidato sindaco alle primarie del PD Tripodi che chiede l'intervento del sindaco. In 15 a casa dal prossimo 25 gennaio, giorno in cui il supermercato PAM di Via Mugellese, zona La Querce, abbasserà per sempre le saracinesche. Un inizio anno da incubo per i lavoratori che nei giorni scorsi hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Preoccupatissimi per il loro futuro, domattina riceveranno il conforto del candidato sindaco alle primarie del PD Simone Tripodi che inizierà una raccolta di firme per chiedere l'intervento del sindaco Roberto Cenni. Un altro pezzo di città, commenta Tripodi, che rischia di scomparire, un servizio essenziale per il quartiere. Qualche mese fa il sindaco si è occupato personalmente delle sorti dei lavoratori PAM di Via Targetti. Faccia altrettanto perché non possono esserci classificazioni di serie A e di serie B. Ai dipendenti del supermercato la decisione di chiudere sarebbe stata motivata con un bilancio economico in rosso. Eppure gli stipendi sono sempre stati pagati regolarmente, il supermercato non ha perso clientela ed è sempre stato un riferimento per la querce e per le frazioni vicine. La vita della PAM di Via Mugellese non è mai stata facile, soprattutto dopo la chiusura del marchio Superal, a cui sono subentrate nel tempo diverse società, fino alla PAM un anno e mezzo fa. Ressa per gli ultimi giorni di officina pratese, ieri record di presenze, il comune aumenta le visite guidate. Record assoluto di presenze ieri a Palazzo Pretorio. Quasi 950 visitatori hanno affollato le stanze per la prima apertura straordinaria non stop fino alle 23 di officina pratese, con il successo dei giovani allievi musicisti della Scuola Verdi che si sono esibiti in mostra. Ma le opportunità proseguono fino a lunedì, ultimo giorno utile per ammirare i capolavori del Rinascimento, con le visite guidate speciali offerte dal comune. Molte sono le prenotazioni già arrivate al call center di Palazzo Pretorio, tanto che sono stati introdotti altri orari di visita. Moltissime prenotazioni, abbiamo aumentato le visite guidate gratuite sabato, domenica e lunedì per i cittadini. È un risultato bellissimo di cui la città deve essere orgogliosa. Approfittate, sono davvero gli ultimi giorni. Arrivederci, è tutto dal TG Prato.